È un rezzato a 5 stelle. La compagine lombarda, attualmente prima nel girone B di serie D, cala un altro colpo da categoria superiore. I biancazzurri hanno praticamente trovato l'accordo per ingaggiare il terzino Fabio Adobati, in foto. Il classe 88 dopo le esperienze al Como e a Renate, era reduce da un importante biennio vissuto con la maglia del Forlì.